Il Teramo prepara l'asse con l'Atalanta, il direttore sportivo Giorgio Repetto sta parlando con la società aerobica e non è un discorso confinato ad un solo giocatore, ma a tre. Con le difficoltà per arrivare a Bob, per cui il diavolo vorrebbe il diritto di riscatto, e con il no di Alessandro Bruno al trasferimento in bianco-rosso e il sodalizio della famiglia per Cassi, quello con il quale potrebbe essere intavolato un maxi affare. A Enrazzurri, infatti, Repetto ha chiesto tre giovani della primavera, ma che hanno già esperienze in Lega Pro. È il caso dei primi due profili, quelli del macedone Isnik Alimi e dell'esterno d'attacco Tiziano Tulissi. Per Alimi lo scorso anno una stagione travagliata a Forlì, conclusa con l'amara retrocessione dopo il play-out con il Fano, nonostante un suo gol nella gara di andata. Con i forlivesi, Alimi classe 1994 ha messo insieme 31 presenze, compresi due match spareggio, e ha destato una buona impressione. Sarebbe l'alternativa a Bob in mezzo al campo nel caso in cui il Gambiano dovesse andare, come sembra, a Trapani. Per Tiziano Tulissi, invece, doppie esperienze in Emilia, prima nel girone B, poi in quello A, perché è iniziato il campionato con la maglia del Modena, allora allenato da Simone Pavan, vittorioso proprio al Bonolis alla quarta di campionato. Anche in quella circostanza la giovane classe 1997 impressionò percorsa e personalità. Nella finestra invernale di calcio mercato e il passaggio al Piacenza, ma in manco rosso le cose vanno decisamente meno bene. Tanta panchina, ma negli undici titolari e qualche minuto messo insieme, subentrando in spezzoni di gara. Insomma, davvero una parentesi da chiudere e mettersi alle spalle. È tornato dal prestito proprio direzione Bergamo e potrebbe essere pronto per una nuova avventura. Ragazzo che gioca naturalmente dietro la o le punte, ma può adattarsi anche sulle corsie esterne. Un jolly in piena regola. Il terzo profilo, che però con i grandi ancora non ha fatto esperienza, è Simone Mazzocchi. Milanese di 18 anni, la scorsa stagione sei volte a segno con la maglia della primavera dell'Atalanta. Tre trattative unite da un unico filo rosso, quello che potrebbe legare il Teramo all'Atalanta, per la valorizzazione dei tanti prospetti lanciati da Zingonia, esattamente come in Serie B sta facendo il Pescara, che ha ufficializzato Caponi e Latte Latte. Il Teramo attende risposte positive, che potrebbero esserci già nelle prossime ore, per iniziare a costruire l'organico per la prossima stagione.